Questa avventura nasce il 9 di marzo su volontà e richiesta esplicita dell'assessore Riccardi che per primo si è reso conto che una tragedia, un'esperienza come questa non poteva che essere supportata da dei dati e da una puntualità e qualità dei dati aggiornati in tempo reale. Abbiamo fatto tanta strada, oggi abbiamo una piattaforma con più di 6.000 utenti a bordo dove ovviamente per utenti parliamo di tutti gli stakeholder, i medici in primis perché sono gli attori principali di questa vicenda i medici di missione generale, i servizi di igiene pubblica, le direzioni delle aziende sanitarie nonché tutti i sindaci perché a vario titolo tutte queste figure istituzionali necessitano di avere le informazioni il più puntuali possibili nel tempo reale per poter assolvere alle loro competenze istituzionali. L'assessore Riccardi voleva superare la fase che in quel momento era di un'informazione che viaggiava con i mezzi che erano in quel momento possibili, cioè trasmissioni di mail, di informazioni attraverso file, Excel, che non consentivano di reggere la quantità e l'esponenzialità dei dati tracciati. Lei tenga presente che noi oggi abbiamo più di 90.000 pazienti tracciati sulla piattaforma in tutte le loro fasi di percorso di cura. La fase 2 sarà sicuramente connotata da un bisogno più massiccio di analisi del dato, di analisi predictive, di previsioni di fenomeni. Questa fase che sta già entrando nel suo vivo vede nell'unità di crisi il gruppo creato con il professor Vinis che già attivamente sta avviando con noi collaborazione per poter appunto, da questo patrimonio di informazioni sanitarie, poter poi sviluppare tutti gli studi e gli approfondimenti, le analisi necessarie per la governance. Tanto lavoriamo giorno e notte direi, anche perché tutti questi utenti vanno assistiti, è giusto dare una risposta a ogni dubbio. C'è stata una grandissima collaborazione, io questo ci tengo a dirlo perché è stato, è stato e ancora un'esperienza straordinaria per tutti noi. Io mi occupo di sanità da sempre, di sanità informatica da 20 anni. È la prima volta che vedo una coesione così forte, cioè aver portato tutti ad utilizzare uno stesso strumento, strumento, non in sostituzione degli strumenti che le aziende hanno naturalmente, ma in aggiunta, e poterlo migliorare, arricchire giorno per giorno, anche grazie ai consigli che arrivano dagli specialisti, dai medici, dalle dirigenze aziendali e da tutti quelli che partecipano a questa avventura, che ci auguriamo tutti di superare presto, è stato straordinario. Devo dire che sicuramente questo è stato possibile perché la barra dritta è stata tenuta fortemente appunto dall'assessorato che non ha ceduto rispetto a volte anche al rischio di voler gestire i dati in altro modo. Noi sappiamo che i dati hanno valore se sono unici e se sono incontrovertibili. Se i dati incominciamo ad attingerli in modo diverso e su fonti diverse, rischiamo davvero a quel punto di fare grande confusione. Questa linearità voluta, devo dire, ha consentito a mio avviso questo risultato che oggi è un patrimonio informativo di assoluta novità che mi auguro e spero possa facilitare il lavoro di tutti quanti.